Il tentativo del sindaco Aiello di scaricare sull'opposizione il suo fallimento politico e amministrativo è divenuto oltremodo stucchevole. Fa tristezza vedere un sindaco ormai isolato che annaspa, che non ha nessuna maggioranza a sostegno, che non dialoga con nessuno, inveire contro gli altri quando il dito dovrebbe puntarlo contro la sua persona. La mancata approvazione del bilancio consolidato è una sua responsabilità e l'ennesimo segnale che indica che il suo tempo è finito. A dirlo i consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia, Alfredo Vinci Guerra, Valeria Zorzi, Monia Cannata e Pippo Scuderi, che sono intervenuti a seguito dell'ultima seduta consigliare. La bocciatura dell'atto dell'amministrazione esegue diverse altre bocciature e sono fallimenti politici di Aiello. Lo stesso sindaco sta di fatto paralizzando la città e dovrebbe dare le conclusioni di questo naufragio, liberando vittorie scoglitti da questa cappa di inedia. Noi da opposizione stiamo svolgendo il nostro ruolo, quello che ci hanno assegnato i cittadini, ed evidenziamo come il fronte di tutta l'opposizione sia coese e compatto. Si è giunti, concludono i consiglieri, a una situazione di ingovernabilità senza precedenti e il sindaco ne dovrebbe trarre le logiche conclusioni, evitando di scaricare sempre sugli altri i suoi fallimenti ed alimentare la politica dell'odio e dell'insulto.